ma la mia è semplicissima ma guarda che sono uguali data ma meno fa saltare mai non solo faccio sì infatti la verona è facile però non ci riesco comunque ok no c'è attenzione io sono matti io sono così qua nel nostro percorso e raga secondo noi no la prima c'era riuscito a pedale venite perché percorso qua è uno sì però mattia mi sfrutta raga io sono più default di default nella destra sì raga mattia mi sfrutta io vado qua io vado in questo raga basta mi sfrutti che io proprio non l'ho mai fatte non è mai fatta solo non è arrivato non mi recuperate più ci sono diciamo a morire comunque non è difficile noi mi si trova stasera le trappole si sono morto questo livello è più nobile ma come fa ad essere un livello fin da bollino ma cosa che non c'è ma rientro che mattia me mi risfrutta non mi è saltato mannaccia attenzione attenzione che super andrea ti ho visto morire malissimo la dove si dividono le strade e poi dove siete andati è il saluto di scoprire faccio schifo non mi sa che non lo fa no ma dai ma sono finito al livello dopo raga ho preso un bambino dopo mi stava dando un botto la voce non ci vado perché sa controllo perché ma io sono andato in una delle due fami c'è scritto di suoi ma ti pare io vado da una parte dove c'è scritto di suoi io ma io veramente sono andato dalla parte dove c'era scritto di suoi ma ti non ci riesci te l'ho detto nooo e allora vai a livello dove l'è stata mi rimane a terra perché vabbè a livello che pensa un po' ah no io non so se ci riuscivi al primo colpo o mi sentivo male non so neanche a che livello sto perché non c'è scritto come ho fatto di valere la gente nooo ma che guarda io non ti so neanche sfruttato eh ma mi ha pensato che non ti ho saltato nooo che va a te ne prego tipo di serra a freddare ma questo qui è facilissimo su di valore delle trappole raga nooo nooo e vabbè ho fatto di valore che mi vanno addosso è vero è facilissimo è vero è facilissimo hai ragione è vero è facilissimo proprio è vero è facilissimo mattii togli annacciamoci muoio per colpa di mattia ah mi hai fatto laggare mi hai fatto laggare mi hai fatto laggare raga ho fatto laggare mattia raga ho fatto laggare mattia come è possibile stava facendo l'hai passato l'hai passato nooo mamma no no andrei a fare le baci no non riesco non riesco non riesco a fare un livello no no in 25 non riesco a farlo raga ma da questo lavoro ci sono scritti i livelli raga 25 stop capirlo come fate capirlo a me c'era di mezzo te lo dico il livello ma dopo la fine ma io in alto mi sono mai senti passi di a me a me dice di ma io sto a vostro stesso livello si quasi raga io mi sono ricongiunto sto alla fila di samu credo no perchè praticamente posso ci sta un teletrasporto raga mi hanno ammazzato in bruttissimamente raga io sto alla seconda fila di livelli eh perché mi ha sfruttato creveri avermi fatti tipo 50 o 30 non lo so già no devo fare non ti sono stupido è da un vecchio di utente che c'è in questo interno raga io sto avanti ma io non mi recupero no non ce l'ho fatta io lo so questo è una corsa tra me e mattina raga ma raga al me è una gara eh no no sì che è una gara tra me e per me è una gara mi pianta una gara ma sono preso l'altra strada ma sono preso l'altra strada raga quindi Samu sta avanti ho fatto bene Samu no perchè sta più avanti io a Samu non l'ho visto io sto dopo il 25 un po' dopo il 25 io non lo so dove sto io sto al 50 bravo ah tu sei leggermente affiamati due si sta complicando un pochetto eh raga la situa si sta complicando ma in realtà non sono così difficili dopo si non so dopo si non so io ho fatto già ragazzo al bait con i tre trappole non mi è saltato bene raga non mi è saltato bene raga non mi è saltato bene raga raga io sono al bait con le trappole a sinistra e destra e la trappola sotto no e ce ne stanno due no ho sbagliato davvero Andrea ho visto ho visto qualcuno che ha preso il 150 di trappola che senso ci vuole ero io no che senso il 150 raga ehm ehm 150 di trappola grande pietro grande non ho capito che intendete non lo faccio di seguito non lo faccio di seguito non lo faccio di seguito raga non lo faccio di seguito raga mi è saltato ancora matti guarda mi vedi matti mi vedi ciao no si guarda tutto avanti sto saltando ma no io sto dietro a chi è ma che io sto dietro di vera ma io sono ultimo io sono al teletra sport mi vedi ma dai no raga ma c'è questo difficilissimo raga non lo faccio di seguito ma io questo non so fare ragazzi ci saranno delle livelli che non lo so fare io ci sei riuscito raga raga secondo me questi non li sapete fare neanche lontanamente i livelli no io l'ho vinto io l'ho visto da un video perché fa l'idea tranna raga io scegliere le classi 50 no ho sbagliato l'ultimo cavolo raga ho fatto un livello che penso che voi non ci farete 40 anni mattia di saluto a livello 70 e ho quasi finito la volta e mancano 30 livelli abbastanza vicine tranne io che credo che sono andato ma lì c'è davanti ma che è questo 50 ma io faccio davanti c'è dietro samuele se vengono così è stato 73 al 50 io sono tipo al 70 anni 80 una cosa leggera c'è davanti ai lati abbassa no ma non ci sono fatte il livello senza ma morire non è la casa sera pagata raga mi si era pagata a un belimo di canza tra le presioni fa la signora è una mia votare il suo con un ragazzo il livello 80 ok a facciamo un lavoro di squadra è come se non è riuscito a capendo parati fare così Raga, non potete capire che mi è successo Praticamente Adesso mi sento meglio dato che sto Abbastanza vicino a voi Io e Mattia facciamo un gioco sporco Io invece sono arrivato L'ho saltate tutte Ah, perfetto Basta che salti Dunque non vedo più nessuno davanti a me Sì, l'ho fatto No, raga, ma è impossibile questo livello Ah, no, ma C'è stato Mattia, siamo vicini, eh? Anche Andiamo ancora Il livello più di più Che era quello impossibile Che non ci sarebbe mai riuscito a fare Eh, ma che sta molto più avanti Guarda chi ti vedo, eh Non è che fai Io sto a 70 Ah, ma è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero Trappure normali, lo so confuso No, ma io sei impossibile che mi vedi Mancato solo 30 livelli Ma sì, io sto a 90, raga Raga, io sto al 90 Mi mancano 10 livelli Eh, io vorrei questo caso arrivato al 80 Ah, bravo Ok, non ci sono a 80 Raga, ma è impossibile Raga, ma è impossibile Raga, ma è impossibile Eh, ma è impossibile Raga, l'ho finita Raga, l'ho finita Raga, l'ho finita Raga, l'ho finita Come ci fa? Grande, andré Aspettaci No, ho visto il 70 No, ho visto il 70 No, ho visto il 70 No, ma il 70 Come l'avete fatto, raga? No, no No, no Ma era una gara, allora Raga, no Ok, vabbè Saluda Saludiamo Ah, ma è un secondo Va bene No, no, no No, siamo così No, no, no